Sì, sono contenta della mia partita ma anche della forza che ci ha messo la squadra nel rimontare perché comunque siamo passati in svantaggio e abbiamo avuto la forza e la personalità di segnare e vincerla. Martedì c'è stata un po' più di fatica contro il Verona quindi siete riuscite subito a riscattare quindi sembra che ci sia già stato questo riscatto, che la sconfitta non abbia lasciato segni sulla squadra. No, per fortuna no, abbiamo avuto mentalità di riscattarci subito da questa partita, era importante una vittoria e ci siamo riuscite e niente, siamo contenti così. Un'ultima cosa che riguarda te, la tua stagione è cominciata bene, giochi sempre bene o male da titolare insomma come ti trovi anche col nuovo mister nella squadra e che obiettivi hai? No, tutto bene, il mio obiettivo era giocare questa stagione e mi sto impegnando e per adesso sono a buon punto e cercherò di continuare così.